Sì, dicevamo che a quest'ora chi ci aspetta a me alla fine dobbiamo cercare ma siamo mettiti dall'altra parte dietro di me proprio guarda proprio dietro di me perfetto eccola lì eccole qui gli altri sono vecchi, sono già letto noi siamo le giovani le giovani costa tosse, sono proprio giovane vabbè, mi faccio seria perché devo dare una notizia e ho scelto di darla a quest'orario, ho scelto di darla dopo l'annuncio di prima non avrei voluto mettere al corrente nessuno perché so che c'è chi si preoccupa però a questo punto è bene che io metta in evidenza anche questo dopo la scorsa sera dove è accaduto ciò che avete già ascoltato negli audio all'interno di questa questura sulle persone mie di Nicoletta io purtroppo sto avendo delle perdite per chi non se ne intende non è del mestiere per una donna incinta avere delle perdite non è proprio un bene però io confido confido assolutamente nell'universo e quindi diciamo che può essere stato l'agitazione del momento più la condizione quindi tutto passerà messo al corrente tutti di questa notizia giriamo un attimo la telecamera per mostrare a tutti che come da diligenti cittadini anche per coloro che sono in presidio su un luogo pubblico e secondo i loro diritti nell'esercizio della libertà di riunione e di manifestazione di pensiero non di manifestazione ma di riunione per la manifestazione del pensiero che è una cosa completamente diversa ecco che tutto quello che è all'esterno durante la giornata come tavolino sedie bottiglie viene riposto all'interno dei mezzi per due motivi uno perché la legge vuole che non possa permanere sul luogo pubblico nulla di fisso se non le nostre auto perché sono sprovviste di targa di riconoscimento perché sottratta e poi per un altro motivo perché noi in quanto corpi diplomatici siamo per la tutela di questo territorio e quindi ci teniamo che questo territorio sia pulito e rimanga tale anzi ci siamo ritrovati a dover pulire dove era sporco e a tener pulito laddove gli altri sporcavano e quindi lungi da noi l'idea di sporcare un luogo dove stiamo accomodati per un periodo di tempo e ovviamente stanotte preferiremo non dormire a tornazione rimarremo nelle auto perché non è caldo quindi preferiamo rimanere nelle auto però rimarremo a turno svegli e sarà una notte importante anche questa di pensiero come tante altre volevate dire qualcosa? avevate qualcosa da digerare? volevate dire un vostro pensiero? a quest'ora e oggi ci siamo dedicati oggi tutto il tutti i cittadini apolidi hanno mostrato di essere in razio e coscienza e quindi ogni cittadino ha risposto e si è adoperato al confronto proprio per confermare che non esiste un leader proprio per confermare che non è un gruppo proprio per confermare che non c'è un idealismo ma che c'è nessun movimento rarissimi ma che c'è l'unione di persone che hanno lo stesso obiettivo gli stessi intenti gli stessi valori e gli stessi principi che mi sembra siano le stesse cose con i quali gli articoli di legge sono stati emessi dai padri fondatori no? eh sì dai qualcosa di buono stiamo facendo eh pochito pochito eh bene questa notte silenziosa noi vediamo la buonanotte e ci vediamo domani mattina qualcuno ha da pensare qualcuno ha da pensare vi salutiamo andiamo nelle nostre auto ci riponiamo nella vaschetta nella vaschetta nelle nostre dimore mobili buonanotte alla prossima grazie no dico sì grazie grazie grazie